Un weekend di fuoco per quanto riguarda gli sbarchi è stato questo appena trascorso. Quasi 400 persone sono giunte nel nostro territorio. Gli arrivi di migranti ormai sono diventati ingestibili nella Locride. Negli ultimi due giorni uno sbarca ogni 6 ore al porto delle Grazie di Roccella Ionica. Anche ieri mattina due unità CP classe 300 della Guardia Costiera hanno soccorso un barcone alla deriva a circa 55 miglia da Roccella con 123 migranti a bordo. Successivamente arrivati al porto delle Grazie di Roccella Ionica alle 9.30 sono stati rifocillati e tamponati in attesa di essere trasferiti. Si tratta di migranti di nazionalità siriana, libanese ed erano anche presenti alcuni palestinesi. La situazione dei migranti ospitati nella Locride nelle ultime 24 ore è la seguente. 185 a Roccella nella tensustruttura della Croce Rossa che ovviamente ha la capienza massima. 70 in una scuola a stilo messa a disposizione dall'amministrazione comunale. E così ad ardore nella palestra ci sono altri 170 immigrati. Il comune di Siderno invece ha ospitato per ultimo i 123 sbarcati ieri mattina presso Siderno Superiore nelle scuole ormai in disuso. È un eufemismo dire che la situazione sta per diventare ingestibile perché probabilmente lo è già. Altro ieri nella struttura portuale è persino mancata la corrente elettrica per diverso tempo, cosa che ha creato non pochi problemi sia per i servizi migranti ma anche per i poliziotti della scientifica che si occupavano dell'identificazione degli stessi.